Amici, finalmente sono ritornata da Primark e ho fatto nuovissimi acquisti. Vi faccio vedere cosa ho comprato, ma prima, sigla! YOLANDA SWEETZ Hello everyone, riaccomi tornata con un nuovissimo video. Come state? Spero tutto bene. Come avete passato la vostra giornata? Spero bene. Ciao amici, io sono Yolanda Switz e oggi sono tornata con un nuovissimo video di acquisti e shopping da Primark. Era da tanto che non ci tornavo, dal mese di dicembre, forse più di un mesetto che non andavo appunto da Primark, ne sentivo proprio l'esigenza. Sono andata a Milano apposta e finalmente, eccolo qua, sono andata a Milano perché mi trovo appunto a Milano, quindi insomma, ho comprato poche cose per come sono fatta io, però davvero molto molto carino. Prima di cominciare questo video, ovviamente amici, mi raccomando lasciate un bel like, un pollice in su se vi piacciono i video appunto di shopping e ti acquisti. Iscrivetevi al mio canale e attivate la campanella perché tutti i giorni troverete nuovi video alle 14.30 e alle 18, video brevi o video lunghi. Ovviamente andate a visitare anche il mio sito che è www.yolandaswitz.it, lo trovate scritto qui in sovraimpressione. Sul mio sito potete trovare tutti gli slime che creo io e tutte le novità che appunto faccio io tra slime e cose creative. Direi quindi di cominciare a farvi vedere cosa ho comprato. Ho fatto anche un po' di acquisti inerenti a Stitch perché lo so che vi piacciono tanto, vedo sempre un sacco di ragazzini e bambini avvicinarsi a tutte le cose di Stitch e poi ci sono io che ho 35 anni e vado allo stesso. Comunque se sentite martellare e trapanare perché di fianco casa di Daniele stanno facendo dei lavori ma si sente tutto benissimo. Iniziamo, allora avete visto nell'immagine di copertina questa tela meravigliosa, non so mi piaceva e a volte io quando so senza fare niente raramente mi metto a colorare o a disegnare o a fare il fimo, fare slime, dipende. Però ho comprato questa tela che ho intenzione di colorarla, ci sono gli acquerelli però in realtà questa verrebbe meglio con le tempere, non so vabbè. Questa tela che voglio appendere nel mio studio è fatta anche molto bene vi devo dire, sopra c'è sia Angel che Stitch. Questa qua costava 4 euro quindi non costava neanche tanto, in realtà l'avevo presa, ho visto il prezzo di sfuggita, non me ne ero neanche accorta. Davvero molto molto carina. Poi invece per qui per casa di Daniele ho comprato questo che è un plaid della Disney originale di Stitch pagato 9 euro. È una copertina questa qua tipo di pile, leggerina però molto carina. Guardate c'è Stitch sopra con queste foglioline così oro glitterate e ogni Stitch diciamo è diverso. Poi in realtà c'è una cosa che non è inerente a Primark ma ve la voglio far vedere. Io e Daniele siamo andati ad una mostra, vendevano dei calzini bellissimi originali, fatte con delle illustrazioni e Daniele mi ha comprato questi calzini stupendi di Etty. Ve li volevo far vedere perché ne vale davvero la pena. Allora ho comprato, perché mi sono fatta tentare in realtà da TikTok, ho comprato queste unghie finte che si chiamano le press on, unghie press on. Io ho provato di tutto, ho provato la ricostruzione, ho provato il gel a fare da sola, tutto. Mi mancano queste che in realtà ho usato e non usato a volte ma le voglio riprovare. Ho comprato anche la colla, se qualcuno magari nei commenti mi consiglia una colla buona da comprare su Amazon, fatemelo sapere. Io intanto ho comprato questa di Primark, chissà com'è. Queste due tipologie di unghie che spero mi vadano bene. Queste qua fatte così square, perlate tipo fatte così e queste qua così. Forse queste mi piacciono molto di più, sono davvero molto molto carine. Le proverò sì, chissà se staranno su, non si sa. Molti dicono che addirittura stanno su due, tre settimane. Comunque ancora, alla modica cifra di 4 euro ho comprato questi dei Aribon, cioè dei pad per pulire la faccia. Davvero molto carini con raffiguranti appunto le caramelline Aribon. Caramelle gommose, vedete queste qua, a Coca-Cola, le ciliegine e gli ovettini Aribon, davvero molto carine. Oramai lo sapete, mi conoscete, le fazzolettini questi qui, due pacchetti 1,80 euro, questi sono i miei preferiti. Cucumber per pulire le mani, io li devo sempre avere ragazzi. Per quanto riguarda il beauty, ho comprato un po' di cosine, ora vi faccio vedere. A 2,50 euro ho comprato questa spugna, questa beauty blender della Revolution, a forma di anguria. Io credevo che profumasse di anguria, in realtà no, è proprio un anguria davvero. Per 1,50 euro in realtà c'erano un sacco di set di pennelli, ma io ho comprato solo questo, che è veramente un pennello che mi manca. Questo pennello qui, con queste setole semipiatte, per fare qui anche lo smokey eye, molto molto bello. Daniele mi ha voluto prendere questo portachiavi di Stitch, davvero molto molto carino, che metterò vicino al mio zaino, alla borsa. 4 euro, c'erano diversi portachiavi, questo è dell'edizione penso natalizia, io da un po' che non vado. A Natale non ci sono proprio andata ragazzi, anche dopo Natale, perché ero qui da Daniele, non abbiamo avuto tempo. Poi sempre di Stitch, ho comprato a 3,50 euro, questa che sembra una lattina quasi di Coca-Cola, con Stitch sopra, con dei pennarelli barra penne all'interno. Davvero molto carina, dai, davvero bellina bellina. Ancora, orecchini, quando vado da Primark di solito li compro sempre, questi belli per l'estate, molto carini. 3,50 euro, questo e questo, tutti questi orecchini così, a cerchio. A me piacciono tanto, perché vedete io già li porto tipo così piccolini, ma a me piacciono parecchio anche questi cerchi un po' più grandi. Io di solito cambio sempre. Allora, la qualità ovviamente non è eccelsa, perché come un po' gli orecchini di Scinno, come gli orecchini, diciamo, di Temu, che dopo un mese diventano neri. Vabbè, per 3,50 euro. Ho comprato un paio di scarpe, ebbene se mi sono portato a presto delle scarpe, che erano pesantissime, perché queste in realtà mi piacciono tanto. Le ho uguali, però più basse. Le ho volute prendere così, pagate 20, un po' too much, a mio avviso. Queste mi piacciono tanto, perché hanno il platform, si chiama, no, sono flat form, non so cosa cambia. Comunque, hanno la zeppa, come la chiamavo io negli anni 90, molto bella, e somigliano molto alle Nike. Ecco perché le ho volute comprare, ragazzi. Io prendo il 38, anche se ho 37, voi lo sapete, perché in realtà è meglio prendere un numero in più da Primark. Ancora, ho un'ultima chicca dopo, che vi faccio vedere. Ho comprato, Daniele veramente mi ha voluto prendere, questi calzini, 4 euro, ragazzi. 7 paia di calzini, ragazzi, 4 euro, bellissimi, super kawaii, perché ci sono tutti questi animaletti. Coniglietto, coccodrillo, polipetto, bellissimo. Questo che non ho capito cosa sia, penso il wombat, non lo so. Il riccio, dai. La ranocchietta, bellissima. E polipetto, davvero molto molto carini. Per casa sono comodissimi, perché cambi, scambi in un attimo. Come potevo lasciarla lì? Penna di Angel, davvero molto bella. Sapete, per le mie collezioni queste, ci sta 3 euro. Davvero carina, cioè, un sacco di bambini la stavano prendendo, poi vengo io e mia. Davvero bella. Con questo testone di Angel, è anche abbastanza pesante, con i glitterini e l'acqua e le stelline che vanno su e giù. Poi vi faccio vedere gli unici due capi di vestiti che ho comprato, sono due pantaloni. Uno normale, che è un pantalone della tuta, tutte e due. Comunque, questo, che è in realtà a palazzo, molto molto largo, bello pesante, vedete dentro, è felpato. Questo quanto l'ho pagato, che fa pure rima, 13. In realtà ce l'ho già grigio, infatti appena l'ho visto ho detto me lo prendo, anche se ce l'ho già grigio. Questo qua, normale, pantalone della tuta, in realtà nero. Guardate, con l'elastico sotto, pagato 7. Allora, ultima cosa, questa pochette, ma all'interno contiene delle cosine. La busta, ovviamente, è vuota. Ho comprato questa pochettina vellutata, bellissima, originale della Disney, 10 euro. Credevo che costasse meno, non mi ricordavo così tanto, credevo 6, però va bene. Bellina però, è pelusciosa, con le orecchie di Simba. Dentro ci sono un sacco di cose. Ho comprato a 4,50 euro questo booster daily, quindi tutti i giorni, per il viso. Un booster per il viso ed è una crema rivitalizzante. Crema rimpolpante labbra, vegana, vitamina C. Questa a 3 euro. Siero per il viso a 3,50 euro, vitamina C e pesca. Io tutte queste cose le lascio qui da Daniele, così non porto le mie cose qui. E ragazzi, per la mia collezione, mamma mia quante ne aveva, come si vede che manco da tanto da Primark, tutti burro cacao diversi. Per la mia collezione, lo sapete, qualche giorno ve la faccio. C'è questo qua, che è un budino, ed è all'anguria. Questo, Jolly Rachel, che è una bevanda questa qui, ha le caramelle Jolly Rachel, ha la ciliegia. Tutti per la mia collezione, ragazzi, queste ne ho tantissimi. Questo, Jolly Belly, 3,50 euro, che dovrebbe essere in realtà un coconut caffè latte. Quindi, cocco, caffè, latte. Lip gloss. Questo, che è sempre un lip gloss. Dentro ci sono tipo anche degli sprinkles. Sempre Jolly Belly, 3,50 euro. Ed è marshmallow tostato. Poi c'è questo. Sempre watermelon. Ed è un lip balm, per idratare le labbra. A un watermelon. Allora, questo è tutto. Grazie a tutti per aver visto questo video. Io vi voglio tanto bene. Vi mando un bacione ed un abbraccione. Ci vediamo domani alle 14.30 con un nuovo video. Ciao, ciao!